Siamo con Pietro Tomei per commentare la partita che verrà, quella di sabato prossimo, con il Carpi Capolista. Quali sono le tue speranze, le tue aspettative? Allora, le mie speranze naturalmente sono quelle di fare una bella partita, come ne ho visti tante quest'anno, e di avere un po' più di fortuna e di non commettere certi errori tecnici che ci sono costati. Quanti anni sono? Da quanti anni si dirà? Da 52 anni, da 58 o 6 anni. Tifoso storico, quale è stata la più bella, però che hai visto? La migliore? Beh, la migliore per quanto riguarda la categoria è questa di quest'anno, da un certo grado di due anni fa, anche se è stata bellissima, è stata una bellissima favola, però poi è finita male. Ci salveremo? Ci salveremo senza altro. Quanti punti faremo? Su 51. E sabato giochiamo a 4 o a 5 in difesa? A 3 o a 4? In casa bisogna giocare a 4 o a 4 o a 2. 4 o a 4 o a 2? Non so, in casa. Il pronostico? Eh, il pronostico, io ti devo dire una cosa, non mi aspetto nulla se non guarda l'impegno, nel senso che col campi e con lo spezzo dopo, quello che verrà a vedere. Mi aspetto però dopo, sangue e arena, nel senso che non si può, non possiamo permetterci di perdere punti con le direttive. Guarda i tuoi occhiali, bianchi, belli. Sì, l'ho fatto in posta, è sempre in modo della tua versione. Forza pro! Forza pro! Forza pro! Forza pro! Grazie a tutti